Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo un sondaggio su Fratelli d'Italia, fatto da Termometro Politico. Lei pensa che la proposta della Lega e di Forza Italia di fare una fusione tra i due partiti sia stata pensata appositamente contro Fratelli d'Italia? La maggioranza assoluta, il 62% dice probabilmente sì, il 24% dice probabilmente no e un bel 14% dice non so. Quindi qui si palesa il fatto che gli italiani pensano, diciamo due italiani su tre, pensano che la federazione è fatta per limitare l'ascesa di Giorgia Meloni. Grazie a tutti quanti e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.